Robby, aspetta! No! 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 Robby! Stupida, dove vai? Dove stai andando? Ti piace il risotto alle erbette? Come hai detto, scusi? Il risotto con le erbette. Sì, è il mio piatto preferito. Ah, ma tu sei una donna, allora. Lasciami, lasciami! Calmati! Lasciami, levami le mani. Rilassati! Tiengolola! Chi è? Ai! Ma sei furba, allora, eh? Ma io non l'ho mai fatto. Guarda che bello, è bello davvero. Neanche lui voleva morire, voleva stare con sua moglie, avere figli. Non era un eroe. E ha fatto quello che pensava fosse giusto fare. Ed esattamente quello che ognuno di noi dovrebbe fare. Siamo solo dei camerieri. Fermi qua, allora!